Vittoria bisse di Rudy Michelini al 36esimo rally città di Pistoia, ultimo atto del trofeo nazionale rally di quarta zona, valido anche per l'open rally toscano, disputato tra lo scorso sabato pomeriggio e tutta la giornata di domenica sulla lunghezza di otto prove speciali. Il driver lucchese, per l'occasione affiancato da Jacopo Innocenti, ha dunque chiuso la stagione 2015 con il massimo della soddisfazione, quella data da due titoli, quello di zona, peraltro già vinto nel 2004, e l'open rally toscano, superando il rivale Artino, ritiratosi sabato sera a causa di un incidente. In seconda posizione assoluta ha chiuso il portacolori della Pistoia Corse Federico Gasperetti, in coppia con Ferrari, a bordo di una Renault Clio R3. Una gara sugli scudi, quella del pilota di Abetone, salito subito nei quartieri alti dell'assoluta, con slancio, e rimasto lì fino al termine di una prestazione perfetta. Ottima anche la gara del Valdinievolino Simone Lenzi, in coppia con Toni Cerone, pure loro su una Renault Clio R3. Fuori dal podio, ma con prestazione importante, il pistoiese Davide Giordano, quarto con la consueta Mitsubishi Lancer Revolution, davanti al sempre concreto elbano Andrea Volpi, in duello spettacolare con Fabio Pinelli, anche lui con una Clio R3, sesto assoluto. La gara, partita con 91 iscritti, ha decretato un nuovo successo organizzativo per la Pistoia Corse, che ogni anno con ottimi risultati organizza questa manifestazione in collaborazione con l'Automobile Club Pistoia, una delle più attese nel mondo motoristico pistoiese.